Dio Sam volevo evitare il posto di blocco pensi nai 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 oppure io oppure io e boh ma che cazzo sto dicendo devi arruolarti da 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 marto Ciao ragazzi sono Freddy bentornato sul mio canale oggi siamo qui con un nuovo episodio di Far Cry 3 eravamo lasciati qui sull'aereo che ora lui ci ha dato la tuta l'are ecco infatti vediamo un pochino speriamo si capopo fiero usa shift quindi premiamo shift wow bestiale madonna raga bellissimo allora quindi dovremmo atterrare lì quando ci si apre il paracadute quindi io direi di aprirlo ok e raga abbiamo centrato proprio il punto d'atterraggio però va bene lo stesso si bello raga uccidi i pirati e prendi il loro pick up vediamo una coltellata a quello ah non sono accorto se mi mangerai il cuore ta 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 morto ok prendiamo sto pick up ok io direi che da qua con il camion non si passa quindi proseguiamo a pieti crazy cook bar minchia esiste vero eh già salve a quanto vedo nei soldi tutti che fanno la faccia tipo vedete conosco un solo sanno c'è un tavolo da poker sul retro mercenari di hoit di solito magari riesci anche a farti invitare eh magari ehm si però salve tu dove vai è a poker secondo te a giocare a poker non perdere tempo se non puoi permetterti il buy in c'è la scialla c'ho le money eccole lì ok benvenuto basta che vedono soldi qua salve salve diamo il benvenuto alla new entry si ah una bella partita speriamo che non sia come il poker dell'altra volta che abbiamo vinto senza fare niente ok già che mi da tutte le cose qua è positivo ok guarda la mano vediamo 10 2 io vedo io vedo mmm bo io la giocherei vai coppia di 10 ragazzi chip chip io rilancio passo vediamo che faccio chip io rilancio oh che palla io vedo ogni sì 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 vedo voglio vedere che c'è al massimo c'è una coppia d'assare ecco chip vediamo ok chip no non c'aveva niente quella con coppia di 10 abbiamo vinto sì wow che fortuna già ok ecco la good good il sam abbiamo capito chi è già una cosa avanti ho finito anch'io giustamente niente rimborsi mi pare giusto andiamo a vedere che ci dice lo zio sam eh e tu per chi la vuoi salve mi ha mandato willis come sta sono preoccupato per lui sono anni che non ho sue notizie addirittura sta bene direi andiamo a vedere andiamo a vedere facciamo una cosa andiamo a sbloccare la torre radio va ovviamente prendiamo le scorciatoie perché sai com'è oddio no bene eccoci arrivati alla torretta vediamo un pochino cosa sblocchiamo era un bel po' che non facevo questa roba ok 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 una capanna questa è una baita ok tre capanne in sostanza va un po' di luce andiamo via ritorniamo dallo zio sam dio sam volevo evitare il posto di vlog oplala ciao maialino ok andiamo a parlare con sam che non riesce ad aprire la sua stessa porta non è la sua è troppo è talmente facile eh tutti pensano che sono cattivissimo perché vengo dalla Germania mi hanno promosso per il mio accendio insieme sediti allora qual è la missione? voglio uccidere OIT eh eh shies aspetta tu sei Jason Brody potrebbe essere si si dovevi dirlo subito devi nasconderti OIT ti farai mille shi pezzi non sarà facile sei vittima del tuo stesso successo sai? i nativi attaccano OIT ha tirato su le difese dobbiamo sabotare la sua organizzazione o ucciderlo cosa può fare? però OIT non sa ancora che faccia hai sa solo di questi eh beh sti tatau che pensi? nai 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 oppure ya oppure ya e poi ma che cazzo sto dicendo? devi arruolarti nei mercenari alt non discutere sarà una missione a due e tu mi servi dall'interno perfetto andiamo con ordine devi essere credibile come? rubiamo un uniforme le nuove reclute vengono trasferite ed esaminate giù al porto trova una reclute accertati che nessuno trovi il suo corpo e fottiti la sua roba si può fare dopo di che contattami su questa frequenza ok andiamo a fottere la la divisa delle reclute Dennis pronto? Jason sei arrivato sull'isola di OIT si Assassin's Creed sei quasi giunto alla fine della via Citra è convinta che diventerai il guerriero più forte della tribù tutti i Tatao saranno tuoi se sopravvivi ovviamente lo sapevo Jason per giungere al centro devi lasciarti alle spalle tutto il tuo passato solo Citra e la via rimarranno so quel che faccio grazie raga bellissimo andiamo a prendere questo uniforme intanto spero che il video vi sia piaciuto come al solito invito a mettere un like se volete iscrivervi al canale bella ciao 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 Grazie a tutti.